cari gitarnauti buongiorno allora oggi parliamo di tecniche di muting che sono quelle tecniche che permettono di controllare le corde non direttamente coinvolte in quello che stiamo facendo per fartela più semplice hai presente tutti quei vari rumori che possono nascere dalle corde no mentre stai suonando specie con il distorsore rumori fastidiosi che non c'entrano con quello che stai facendo e fanno da contorno fastidioso ecco sto parlando praticamente di risolvere questo tipo di questione che con i miei allievi da anni è sempre una questione ostica perché è un insieme di tecniche non ho non ho usato casualmente il plurale parlando di tecniche di muting perché fosse una sola cosa da imparare sarebbe più semplice ma in realtà sono tutta una serie di micro questioni che insieme aiutano ad essere puliti quando si suona quindi andiamo a vedere quali sono le principali tecniche e partiamo dalla questione della mano sinistra allora molto probabilmente fin dalle prime battute in cui hai suonato la chitarra ti hanno fatto una testa così con il fatto di tenere le dita a martelletto cioè le dita particolarmente perpendicolari rispetto al manico questo può funzionare anzi funziona sicuramente in alcuni contesti basta prendere ad esempio gli accordi in cui abbiamo l'esigenza di far risuonare tutte le corde insieme noi su un do maggiore abbiamo bisogno che tutte le corde suonino insieme pertanto dobbiamo tenere le dita a martelletto ma quando noi suoniamo ad esempio una solo heavy metal una solo rock distorto la nostra esigenza è proprio che risuoni solo la nota che abbiamo in quel momento non dobbiamo permettere alle altre corde di suonare e quindi la posizione a martelletto non va bene quindi dovrai imparare a gestire anche un nuovo tipo di posizione una posizione molto piatta con le dita ok quindi se a martelletto le dita sono in questa posizione in questo caso dovremo tenere le dita molto più piatte ok più piatte e quindi dovrai abituarti a sentire diciamo le corde a contatto con questa parte delle dita va bene devo sentire sotto le dita il contatto con le corde questo non ti deve spaventare il fatto di mentre sto suonando sul mi grosso sentire il contatto di tutte le altre corde sotto le dita non è una cosa sbagliata anzi permette di stoppare quindi facciamo un esempio se io sto suonando sul mi grosso o se sto facendo una scala che parte dalle corde basse man mano che scendo tutte le corde che ho sottostanti saranno stoppate dalle dita stesse che stanno lavorando dall'indice in particolare ma in generale da tutte le dita va bene quindi abituati a suonare in questo modo questo tipo di tecnica poi non è strettamente necessario quando per esempio suoniamo una chitarra acustica che non ha grossi problemi di risonanze ma quando suoniamo con la chitarra elettrica e soprattutto suoniamo distorto invece diventa fondamentale quindi ti abituerai poi dopo a tenere questi tipi di posizione ad adattarli senza neanche più accorgertene a seconda del tipo di suono che stai utilizzando bene passiamo ora all'analisi di ciò che deve fare la mano destra quindi alla cosiddetta tecnica di palm muting va bene ecco la mano destra deve appoggiarsi con il palmo con questa parte del palmo sulle corde basse soprattutto e tenerle ferme quindi se io ad esempio sto suonando sui cantini sul micantino il mio palmo è ben appoggiato saldamente su tutta la cordiera con questa parte qua di taglio ok appoggiato in questo modo di modo da stoppare tutte le corde quindi in questo caso posizioni volanti cioè con la mano volante sospesa non appoggiata non vanno bene quindi ti devi abituare che purtroppo ci saranno una serie di modifiche che devi fare se tu vuoi suonare con questi tipi di sonorità tieni conto che se io devo suonare semplicemente chitarra flamenco o chitarra jazz di un certo tipo non ho bisogno necessariamente di questi tipi di adattamenti ma se io devo suonare distorto li devo avere per forza quindi dovrò imparare a gestire anche questi tipi di posizione ti dirò di più molti di noi suonano con il palmo appoggiato proprio sul ponticello della chitarra utilizzando una pennata di questo tipo ecco questo è un problema quindi è vero che con la mano destra di veri e propri errori non esistono nel senso che le posizioni sono molto soggettive ma quando si suona molto distorti suonare in appoggio qui è un problema io spesso ho bisogno di suonare qui ecco una cosa che io continuo a ripetere ai miei allievi è spostati più in qua spostati più in qua spostati più in qua lo dico decine e decine di volte perché alcuni sono abituati a suonare qua ma qui il rischio che le corde risuonino libere è elevatissimo devi abituarti che quando si suona distorti potrebbe essere necessario suonare quasi sul manico questo mi dà il massimo controllo del muting sulle corde basse soprattutto ok se io fossi qui ci sarebbe il rischio che le corde rimangano libere va bene ecco cos'altro ti posso dire sulla mano destra che sicuramente il palmo deve stoppare le corde basse ma anche una mano destra che si pone in posizione quasi a ponticello in questo modo può permettere di stoppare sia le basse che le alte quindi con le dita che rimangono libere dal plettro io posso tendere a stoppare i cantini a volte proprio quando ho bisogno in particolare di stoppare una corda posso anche appoggiare un dito per esempio l'anulare tenendo fermo il cantino spesso il micantino che suona suona libero sui nostri fraseggi sulle corde acute no lo teniamo fermo con l'anulare quindi in poche parole questa posizione un po' non so se riesci a vedere no a cucchiaino della mano permette di lasciare libera al centro solo le corde che vogliamo suonare corde basse stoppate dal palmo corde alte stoppate dalla dita all'inizio ti sembrerà una cosa innaturale una cosa difficile ma io per esempio qui lo sto facendo e non credo che si veda qualcosa di innaturale sto semplicemente suonando e nel contempo controllo le corde in questo modo tra poco parleremo invece di come coordinare il lavoro di mano destra e mano sinistra allora abbiamo visto come stoppare con la mano sinistra con le dita piatte come stoppare con la mano destra con il palmo e le altre dita ma qual è il rapporto che ci deve essere tra questi due lavori ti devi immaginare una sorta di linea che divida il lavoro della mano destra e della mano sinistra una linea orizzontale questa linea è rappresentata dalla corda su cui stai suonando esempio io sto suonando sulla corda re qui ok la corda re è la mia linea divisoria tutto quello che c'è sopra la corda re è a carico della mano destra quindi in questo caso la corda mi grosso e il la saranno stoppati dal palmo tutto quello che c'è sotto la corda re è a carico della mano sinistra di questa che suonando piatta tiene fermi i cantini va bene quindi dovrei proprio abituarti che questa linea poi dopo può spostarsi io suono una scala questa linea si è spostata man mano che facevo la scala quindi man mano che abbandonavo corde basse venivano prese in carico dal palmo della mano va bene e man mano che andavo sui cantini sempre meno corde venivano controllate dalla mano sinistra quindi quando io arrivo sul mi cantino non ho altre corde sottostanti quindi la mano sinistra non sta controllando più niente è tutto compito del palmo della mano destra e quando arrivo sul mi grosso il palmo non fa più niente tutte e sei le corde o cinque corde sono a carico della mano sinistra quindi fatti degli esercizi scalari molto lentamente abituandoti a gestire questa linea separatoria e a coordinare il lavoro di muting delle due mani ecco ti ho detto poco fa che tutto quello che è sopra la famosa linea separatoria quindi sopra ciò che io sto suonando con la mano sinistra è compito della mano destra c'è una piccola eccezione non è vero del tutto nel senso che anche la mano sinistra oltre a controllare le corde sottostanti può riuscire a controllare le corde sopra almeno la corda immediatamente soprastante stando molto alta sulla corda alta cosa vuol dire che se io appoggio il dito sulla mia corda sol ma lo appoggio di qualche millimetro più in su di quello che sembrerebbe normale la punta dell'indice tende a toccare, a sfiorare la corda re tenendola ferma in qualche modo ottenendo un suono percussivo quindi potrei suonare questa nota sulla corda sol e nel contempo stoppare la corda re questa è una tecnica un po' millimetrica devi un pochino abituartici però è quello che fa veramente la differenza perché talvolta il palmo non può essere così preciso da riuscire ad arrivare esattamente alla corda soprastante quella che stai suonando questa tecnica è nota anche per esempio nell'utilizzo dei power chords sulla quinta corda se io suono un power chord e ha la tonica sulla corda là il migrosso sarebbe libero rischia di suonare ma se io tengo l'indice qualche millimetro più alto questo mi permette di io qui ho il mi grosso vuoto ma non sta risuonando è completamente stoppato quindi questa tecnica di tenere le dita talvolta più alte di qualche millimetro del dovuto può rivelarsi molto utile io ti ringrazio per l'attenzione e ti invito a entrare in contatto con me mettendo mi piace sulla mia pagina di facebook di cui vedrai qualcosa in sovraimpressione da qualche parte non mi ricordo dove in questo modo rimarrai aggiornato su tutti i miei nuovi video sulle mie attività su tutti i miei nuovi materiali ciao e a presto